Buongiorno, 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 primo vero edulis, è il terzo però, è il terzo di oggi, della serie non bisogna mai mollare e tentare, il terzo di oggi è il terzo dell'anno, vai tiralo su me che mi ha pesciato in dibattito, me che mi ha pesciato in dibattito, questo è proprio bello, il riposo dei pensionati e il ragazzino lavora, vabbè questo l'ha trovato il pensionato, grazie, grazie per la gioventù, questo affetto, anche bello lo stacco? Stacca, stacca oh, che bello l'edulis, finalmente beh, ci ciutelo ma qua ti garantisco io, se trovi trovi l'edulis si, questo è il fungo questo è l'edulis questo non c'entra la stacca questo, questo non c'entra che ce ne pochi, non ce ne è infatti bravo questo è bello ho trovato il bambino e noi abbiamo trovato la mamma questo è bello e basta oh che roba senti il croc che bello eh, cinque testa così si basta siamo ancora arrivati a casa ma infatti ma che bello tolacciapra crapalustra sembra il bosco dalle fate sì aspettacola lascio a casa lascio a casa lascio a casa orcini doppietta sì uno e uno due astia va giù tutti i messaggi arrivano tutti i messaggi arrivano ma che bello oh le raura è troppo orcinello non è che ce l'ha trovato a me riposito è quello lì infatti ti ha messo un piebet un bel spot ma le stanno un ca domenica cade dopo quattro riposito ripartire dopo le dieci no vabbè ma pian pian viate se vedi che curi no quindi andiamo anche cioè però il caffermia oh no che è sì patatino un po' secchino ma fa ne gotta oh ritico il caldo che ha fatto è già tanto trovarli è riuscito a aprire il secondo ha fatto emergenza è riuscito a aprirlo solo che era mai alla basse quando ha trovato il posto sulla strada ad errare e ha atterrato dentro tipo non era l'ultimo c'era lì una panchina di cemento è andato al basso tipo il colpetto ha spaccato secondo me sono dei badi no ho già guardato preoccupato in berlini fa ne gotta è praticamente una